E oggi ufficiale Marco Marsiglio, senatore romano di Fratelli d'Italia, sarà il candidato del centrodestra per le regionali. Zelli, qual è il suo commento? Il mio commento è che ce l'abbiamo fatta. Finalmente abbiamo il candidato presidente, si sa oramai, noi stavamo già comunque lavorando negli ultimi 20 giorni perché sapevamo che sarebbe stato lui. E' il compromesso migliore, è chiaro che noi abbiamo espresso la nostra posizione in passato e non è che la rinneghiamo, ci sono delle cose che non funzionano ma è chiaro che in una coalizione di 5 entità importanti va trovata una sintesi. La sintesi migliore, arrivata a questo punto anche secondo noi è Marco Marsiglio, è una persona seria, un politico affidabile, autorevole e sicuramente è la persona giusta per rispondere un po' a questo sistema di antipolitica dove tutto è sbagliato e tutto va male. Lui è l'esempio che politici seri, politici che lavorano, politici che ci tengono al lavoro che va fatto in politica esistono. Si è perso però del tempo proprio con questo balletto di nomi nelle ultime settimane, anche lei più volte aveva detto che bisognava arrivare prima probabilmente a una decisione, ora si tratterà di recuperare il tempo perduto. Sì, chiaramente farlo prima sarebbe stato meglio per tutti, è normale che però noi in questo periodo non siamo stati fermi, noi abbiamo presentato il nostro programma, Fratelli d'Italia ha presentato il suo, la Lega ha presentato già i candidati, quindi dobbiamo come abbiamo iniziato una settimana fa continuare a vederci, sintetizzare soprattutto secondo me la parte principale che è quella del programma e chiudere le liste perché chi ancora non la presentate deve presentare le liste e a quel punto insomma saremo pronti. Mancano 50 giorni, la campagna elettorale da adesso da questo punto di vista è anche abbastanza lunga, dobbiamo semplicemente metterci al lavoro, questo ci piace, noi siamo qui per lavorare, per lavorare per la regione e quindi adesso siamo contenti di poter iniziare. Ad oggi, secondo quello che si è detto e si è scritto in queste ultime ore, c'è anche Fabrizio Di Stefano che corre autonomamente con alcune civiche, secondo lei Di Stefano potrebbe fare un passo indietro nei prossimi giorni oppure andrà avanti? Fabrizio Di Stefano secondo me, visto che ci ha unito anche un percorso importante in quest'ultimo periodo, più che un passo indietro dovrebbe fare un passo avanti, nel senso che dobbiamo cercare di tornare uniti, dobbiamo cercare di ritrovare il valore essenziale delle cose perché è vero tutto quello che abbiamo detto, io come ho detto prima non lo smentisco e Fabrizio immagino ancora più di me, però è altrettanto vero che non si può riconsegnare questa regione in mano ai Paolucci, agli Sclocco, ai Paolini, a tutta quella sinistra e tutta quella gente che ha governato con D'Alfonso 5 anni. Quindi in questo momento il bene dell'Abruzzo secondo me e la buona gestione per l'Abruzzo devono venire prima di altre cose come abbiamo fatto fondamentalmente noi.